amici ma soprattutto nemici bianconeri buongiorno buona domenica siamo siamo esattamente che ora sono siamo esattamente 20 12 orvi modelli beat comunque cerchiamo di stemperare un pochino la tensione distrarre la mente è importante e dire qualora qualora dico qualora qualora che non succederà mai non succederà mai qualora qualora in quel del continassa nelle segre nelle segrete stanze nella nella sala dei bottoni in quella in quella in quelle aule in quelle aule particolari si decidesse magari miracolosamente di cambiare allenatore tiago motta è un grande allenatore fai giocare veramente bologna in maniera eccezionale ieri la partita è stata veramente gradevole si divertivano questo zizze questo ferguson questo salas marker giocatori veramente che di grande qualità e alla i vernici giocatori di qualità non mancherebbero e non mancano e non mancherebbero visto considerato anche su lei che raggiunge quota 10 gol veramente con un allenatore che predilige questo gioco bello aereoso fatto di scambi scambi in descambi e triangoli tutto tutto propositivo tutto in fase verticale e sarebbe un bel vedere e questo qualora in quelle segrete stanze in quelle lobby in quelle segrete dove lì purtroppo la dignità allegriana regna sovrana e la dignità o non dignità a seconda di come come la si vede regna sovrana dove dove quell'essere quella piovra quel ragno malefico ha sputato ha schiacciato ha inserito il suo veleno difensivista giocare per il pareggio l'uno a uno è un ottimo pareggio non se ne vuole più andare quindi qualora dico qualora ci fosse un cambio un cambio o magari perché questo becchino se ne vuole andare magari magari la sua coscienza sporca infancata lurida e schifosa magari possa dire adesso basta vado da un'altra parte oppure libero 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 i giocatori giuventini dalla data dalla mia dal mio veleno e allora ripeto ti amo molto veramente a il fisico di roll come si dice plomb meraviglioso come parla come dialoga come sta in panchina perché qui alla juventus guardano anche questa perché se viene uno come sarebbe che viene discriminato a livello anche razziale purtroppo è così io lo posso ne dico faccia face to face io le dico face to face perché sarei stato di è stato discriminato e perché 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 veniva perché veniva non veniva e chi lo nega e imbroglione chi lo nega imbroglione chi lo nega imbroglione chi lo nega imbroglione ma è lui al fisico di roll la bomba è tutto perfetto e sa far giocare bene il bologna gioca bene gioca bene è un piacere veramente vedere questo bologna giocare a calcio ora non mi parlate dei fenomeni perché fenomeni non ce ne sono sono grandi ottimi giocatori che vengono valorizzati vengono valorizzati e danno più di quello che magari attraverso il gioco attraverso la mentalità di quello che magari loro sono in realtà invece noi l'esatto contrario come basta abbiamo parlato di quello che devo parlare io ribadisco sempre il concetto che per me ha letty auto vita morte sempre 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 lui vuoi non capite voi non capite o non volete capire livello su con un vero allenatore cosa può dare queste vedo se quella che anche arriverà in futuro con tutti questi giovani che stanno a giocare a calcio perché anche eri frosinone ragazzi parliamoci chiaro è arrivato poi il 3 a 2 del milano con una mischia con un rimpallo che ha favorito come si chiama il giocatore che è entrato l'ultimo entra e ci sono queste ma il frosinone ogni palla che giocava la giocava per attaccare giocava sempre in verticale giocava sempre in verticale di destra di sinistra di centro giocava sempre per andare a vincere la partita non ho visto mai un frosinone che metteva come si può dire rem in barca nella maniera più assoluta mentalità 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 noi noi ragazzi ci vediamo che voglio fare un video particolare extra calcio pomeriggio siamo sempre che io ci ho pensato quello che non sapete che io la notte io dormo non dormo ho pensato a un video di fare tanto per tenervi un pochino in allegria vediamo se riesco a farlo vi abbraccio e una come sempre mastici ingazzati fino alla fine allegria 8 a un video di farlo vi abbraccio